Tagliare i vitalizi di cui beneficiano attualmente gli ex consiglieri regionali e i loro eredi e reinvestire le risorse nelle politiche per il lavoro. E questo è il nucleo di una proposta di legge di tre articoli presentata stamattina in Consiglio regionale dal gruppo Fratelli d'Italia, composta dai consiglieri Gennaro Fuoco, Paolo Truzzo, Marcello Rue e Gianni Lampis. La nostra proposta ha un duplice obiettivo, ha spiegato Gennaro Fuoco, primo affermantario della proposta di legge, consentire un risparmio alle case del Consiglio regionale e incentivare l'assunzione di persone in difficoltà. La norma prevede una riduzione al 60% dell'assegno vitalizio di reversibilità a favore dei coniugi di ex consiglieri regionali deceduti e un contributo di solidarietà da applicare a tutti gli assegni in godimento. Chi percepisce un vitalizio inferiore ai 2.500 euro, hanno spiegato i consiglieri di Fratelli d'Italia, dovrà rinunciare al 10% dell'importo, mentre il contributo salirà al 15% per gli assegni più alti. Secondo i calcoli degli esponenti di Fratelli d'Italia, ci sarebbe un risparmio di circa 2 milioni e mezzo o 3 milioni di euro all'anno. Somme da reinvestire interamente per la costituzione di un fondo destinato all'abbattimento degli oneri contributivi per l'assunzione dei capi famiglia e dei nuclei familiari monogenitoriali con minori a carico, ha aggiunto Fuoco. Con questa misura potrebbero essere assunte mamme separate, con prole a carico o persone che hanno perso il coniuge. La legislatura sta finendo, ma se c'è la volontà politica siamo ancora in tempo per approvare il provvedimento. Sarebbe un bel segnale per i cittadini, ha concluso il capogruppo di Fratelli d'Italia, Paolo Truzzo. Noi proporremo in conferenza ai capigruppo di portare la proposta di legge in aula attraverso la procedura d'urgenza prevista dall'articolo 102 del regolamento consigliare.